Si chiama Dante Mannolo, a 51 anni, calabrese di Cropani Marina, provincia di Catanzaro, è stato arrestato l'altro ieri dai carabinieri di Borgo Santa Maria per associazione a delinquere, finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta e documentale. Gli inquirenti sanno che l'uomo, ha detto Paolo, aveva legami ma non affiliazione con dei clan dell'Andrangheta. L'ordinanza di custodia cautelare a firma del GIP Giacomo Gasparini, su richiesta del PM Maria Letizia Fucci. Mannolo avrebbe distratto, insieme ad altre quattro persone, tutte indagate per gli stessi reati, almeno 500.000 euro dai magazzini della Eurodistribuzione SRL, società di commercializzazione di prodotti alimentari, in particolare caffè, aperta a Pesero nel 2015, intestata ad una giovane prestanome sempre calabrese. Mannolo è considerato il socio occulto che faceva acquistare merce, facendola sparire in fretta verso la Calabria, ma senza preoccuparsi di far pagare il fornitore. Per accreditarsi all'inizio la società pagava le forniture, ma poi dal 2016 non lo ha più fatto, accumulando merce non pagate e dunque debiti. Ma non è stato questo ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Borgo Santa Maria. A far finire Mannolo sotto la lente dei carabinieri è stata la sua Maserati Ghibli Bianca, vista a sfrecciare nel 2016 proprio dalle parti di Borgo Santa Maria. Il procuratore Tedeschini ha sottolineato come il tessuto economico della provincia di Pesero si è ritenuto però florido dalle attività criminali. La provincia è una provincia ricca, è una provincia tranquilla, è una provincia piena di imprese e di possibilità. Quindi è in assoluto un luogo che per sua natura il pizzo non lo fa vivere. Ma è un luogo dove ci si può inventare di trasferire un'azienda per poi fare un po' di riciclaggio e poi magari fare anche una bella grossa truffa all'improvviso e questo è uno dei modi tradizionali dell'altro ramo di attività della criminalità organizzata. Nessun legame invece con l'omicidio di Natale di Marcello Bruzzese, 51 anni fratello, di un pentito di indrangheta freddato nel centro della città. Le indagini ad oggi dimostrano che l'unico legame è, diciamo così, la provenienza regionale dei soggetti. Questi sono calabresi e lì è un problema che viene dalla Calabria. Però chi conosce la Calabria e la criminalità calabrese sa che questo vuol dire molto poco, nel senso che l'andrangheta è organizzata addirittura per quartieri di città. Quindi no, la risposta è no.